I ripali Mosani va sotto, rimonta e supera lo Spinete infilando la quarta vittoria consecutiva che vale il terzo posto in classifica con vista eccellenza a meno 4 dalla piazza Donuro occupata da San Pietro in Valle. Arbitra Matteo Pasqua di Termoli, nome Nomen, in questo sabato di vigilia pasquale. La gara si inizia con 39 minuti di ritardo per il Camboris a tratto impraticabile dalla pioggia battente e rimesso in sesta alla bella e meglio. Sono però i padroni di casa a partire a mille con lo scatenato Turè che al secondo si incune in area ripese e quasi in caduta insacca l'1-0 sotto l'incrucio. Il ripare agisce al nono, Guglielmi si libera al tiro dai 16 metri, pallone leggermente alto. Lo Spinete si riporta subito in avanti, solito lancio dalle retrovie e taglio dell'imprendibile Turè che portato sull'esterno riesce comunque a tirare da posizione impossibile e piazza il 2-0 Matesino. Al tredicesimo i ragazzi di Diamante potrebbero addirittura chiuderla ma il diagonale di Evangelista si spegne sul palo. Al ventunesimo però il ripa la riapre, corner di Marinelli e testa di Guglielmi per l'1-2. Al venticinquesimo il ripa Limosani è ancora pericoloso, angolo di Marinelli che trova ancora Guglielmi pronto a colpire. L'azione prosegue ed è mancina ad impegnare severamente Vitone. Al ventisettesimo tocca a Tucci esaltare i riflessi di Vitone, botta al volo e straparata dell'esterno Matesino. Il pari matura come un frutto di stagione nonostante i tre gradi del comunale e arriva al quarantunesimo con un'altra incornata di Guglielmi su corner di Marinelli per il 2-2 con cui si va anche al riposo. Nella ripresa il ripa Limosani si ripresenta più convinto dei propri mezzi e al nono Delia ci prova in diagonale e c'entra il palo. L'azione prosegue con Tucci che ruba a centroarea ed insacca il palone del 2-3 per il sorpasso ospite. Al quattordicesimo per lo spinete piove sul bagnato. Antonio Calabrese entra così su De Santis, secondo giallo e poi russo estratto dal signor Pasqua, padrone di casa, in dieci. Al ventunesimo Salvatore interviene così su un nuovo entrato, vinci guerra in piena aria ma per Pasqua non c'è nulla tra le proteste ripesi. Al venteseesimo Tucci prova a servire la specialità della casa da calcio piazzato ma Vitone ha idee diverse. In pieno recupero con lo spinete sbilanciato in avanti il ripa riparte in velocità e vinci guerra tende a superare Vitone avanzatissimo sulla tre quarti il quale però colpisce il palone con la mano e viene espulso dall'arbitro Pasqua. In porta va D'Angelo con lo spinete che chiude in nove salutando matematicamente il secondo posto ma non ancora la zona playoff.